Ciao bambini, oggi affrontiamo un argomento nuovo. Su sconte percentuali direi che ci siamo. Oggi vediamo l'approssimazione per arrotondamento. Argomento che abbiamo già un po' toccato nell'incontro quando ci siamo visti. Partiamo intanto da questa idea. Cioè che alcuni numeri a volte sono troppo grandi. Oppure possono subire delle variazioni nel tempo. Possono non rimanere sempre uguali. Oppure hanno tantissime cifre decimali. Ad esempio un anno luce corrisponde a 9.460 miliardi e 704 milioni di chilometri. È un numero grandissimo. Gli abitanti di Genova il primo gennaio del 2018 erano 580.097. Il primo gennaio del 2018. Ma il 2 di gennaio, il giorno dopo, già sicuramente, saranno stati un numero diverso. Saranno nati altri bambini. Se ne saranno andate delle persone. Il numero non sarà stato più precisamente 580.097. Oppure in geometria abbiamo visto il valore di pi greco. Che è 3,141592653. In un numero infinito di cifre decimali. E' quindi necessario approssimare il numero. Cioè indicare un suo valore che si avvicini il più possibile a quello reale. Un valore che sia circa quello. Fare una cosa in maniera approssimativa vuol dire farla abbastanza, circa, come dovrebbe essere fatta. Ma non proprio precisamente così. Quindi approssimare un numero vuol dire indicare un valore vicino a quello reale. Non esattamente quello, ma che è circa quello. E allora compiamo sul numero un'azione che si chiama arrotondamento. Lo dice la parola, lo arrotondiamo. Cioè lo rendiamo più rotondo. L'arrotondamento può essere fatto per difetto o per eccesso. Cosa vuol dire quando ho difetto di qualcosa? Vuol dire che mi manca, che mi è stato tolto qualcosina. Cosa vuol dire quando eccedo? Vuol dire che sono andato un pochino oltre, un po' sopra quello che è la realtà. Come si deve fare? Anzitutto io devo decidere a quale cifra voglio approssimare. Se alle unità, se ai centesimi, se alle centinaia, se alle decine. Dove mi voglio, diciamo, fermare. Poi guardo la cifra che viene subito dopo. Se la cifra è minore di 5, allora arrotondo per difetto. Cioè dovrò difettare, togliere. Se invece è maggiore o uguale a 5, dovrò arrotondare per eccesso. Dovrò eccedere, cioè dovrò aumentare. Un pochino rispetto al dato, al numero reale. Ma vediamo bene entrambe le operazioni. Come si fa? Partiamo dall'approssimare per difetto. e ci riprendiamo il nostro pi greco. 3,141592653 sono le cifre che ci ricordiamo dal pi greco dei del secolo. Vi ricordate? Però ci si ferma, quando si parla di pi greco, ci si ferma qui, alla cifra dei centesimi. 4. E come mai è 3,14 e non 3,15? Talmente piccola la cifra dei centesimi, non posso dire che è 3,15? No, perché io guardo la cifra che viene subito dopo il 4. È un 1. E l'1 com'è? È minore di 5. Allora devo approssimare per difetto. Cioè devo difettare, devo togliere qualcosa. Ed è proprio quello che farò. Cioè io, dalla cifra dove mi sono fermata, dai 4 centesimi, tolgo le cifre dopo e le faccio diventare tutte zero. E siccome questa è una cifra decimale, questi zeri è come se non ci fossero. La mia cifra dei centesimi, dei sì, dei centesimi, il mio 4, non lo tocco. E infatti pi greco è 3,14. Vediamo quest'altro numero. 7,286. Voglio approssimare al 7, alla cifra delle unità. Allora, guardo che numero, che cifra viene dopo. Viene un 2. Lo vedete? È minore di 5. Allora devo approssimare per difetto. Cioè tolgo, via, togliamo tutto, sostituiamo con 0 ed ecco che 7,286 è circa 7. Infatti se io lo vado a collocare sulla linea dei numeri, dove sarà più vicino a 7 o più vicino a 8? 7,286. È qua. È più vicino a 7. È circa 7. Leggermente di più. Ho approssimato, ho arrotondato per difetto. Cioè a 7,286 ho tolto questa parte decimale. Approssimare per eccesso, cosa vuol dire? Il contrario, ci vorrà dire che dovrò eccedere un po', aggiungere un po'. Teniamoci sempre a 7,286, ma io questa volta voglio approssimare la cifra dei decimi a 2. Mi fermo qua. Guardo che cifra viene subito dopo. Viene un 8. 8 è maggiore di 5. Allora devo approssimare per eccesso. E vediamo come si fa. Un po' diverso rispetto a prima. Cioè, di nuovo, tolgo le cifre che vengono dopo e le sostituisco con degli zeri. Ma adesso, siccome io sto approssimando per eccesso, devo eccedere un po'. Cosa succederà alla cifra dove mi sono fermata, in questo caso ai decimi? Devono aumentare di 1. E allora 7,200 diventa 7,300. Cioè, 7,2 diventa 7,3. Perché, di nuovo, se io la metto sulla linea dei numeri, 7,286 286 è più vicino a 200 o più vicino a 300? È più vicino a 300. Quindi, è più vicino a 7,3 rispetto a 7,2. Ho approssimato per eccesso. Cioè, ho aggiunto un pochettino per raggiungere il numero un po' più tondo dopo. Quindi, 7,286 è circa 7,3. Vediamo questo numero dove non abbiamo cifre decimali, 3,654. Decido di approssimare la cifra delle centinaia al 6. Allora, dopo 6 viene 5. 5 è uguale a 5. E abbiamo visto che se la cifra dopo è maggiore o uguale a 5, devo approssimare per eccesso. E quindi, di nuovo, tolgo le cifre che vengono dopo e le sostituisco con degli zeri. e aumento di 1 la cifra dove mi sono fermata. Per cui, 3,654 è circa 3,700. Se io la vado a mettere sulla linea dei numeri, infatti, dov'è? È leggermente oltre la metà tra 3,600 e 3,700. La metà è 3,650. Noi siamo un pochettino più spostati verso il 3,700. Riprendiamo il nostro anno luce, 9.460 miliardi, 704 milioni di chilometri e già probabilmente questa cifra è approssimata. Qua ci saranno altri numeri e già è stata approssimata le unità di milioni. Approssimiamola all'unità di miliardi perché nei libri in genere si trova così. Cioè mi fermo allo 0. Guardo la cifra che viene dopo. È un 7, 7 è maggiore di 5. Allora devo approssimare per eccesso. Cioè tutte le cifre dopo diventano degli zeri e la cifra dove mi sono fermata aumenta di 1. E infatti un anno luce corrisponde circa a 9461 miliardi di chilometri. Gli abitanti di Genova il primo gennaio del 2018 erano 580.097. Abbiamo visto che è un numero che può variare da un giorno all'altro, da un momento all'altro. Allora lo arrotondiamo alle unità di migliaia, allo 0. Guardo cosa viene dopo. Viene 0 che è minore di 5. Allora arrotondo approssimo per difetto. Cioè tutte le cifre dopo diventano 0 e io questa non la tocco. 580.097 è circa 580.000. Gli tolgo questa parte qua. Il mio numero approssimato difetta un po' rispetto al numero reale. È un po' più piccolo. Facciamo ancora un'ultima cosa. Vediamo questo numero 382,15. Lo approssimeremo a cifre diverse. Cominciamo con approssimarlo ai decimi. Cioè mi fermo all'1. La cifra dopo è un 5 che è uguale a 5. Allora io devo approssimare per eccesso. Queste mi diventano 0 e la cifra dei decimi dove mi sono fermata deve aumentare di 1. per cui 382,15 è circa 382,20 cioè 382,2 circa 382,2 Stesso numero ma voglio arrotondarlo approssimarlo alla cifra delle unità al 2. Quindi guardo cosa viene dopo viene l'1 è minore di 5 allora deve approssimare per difetto vuol dire che tutte queste cifre diventano 0 e la mia cifra delle unità non la tocco circa 382,00 cioè 382 perché sappiamo che i zel decimali in fondo si possono togliere 382,15 sempre lui ma lo vogliamo approssimare alla cifra delle decine all'8 mi fermo qui guardo cosa viene dopo viene il 2 il 2 minore di 5 allora di nuovo devo approssimare per difetto cioè gli devo togliere lascio stare la mia cifra delle decine il mio 8 e tutte le cifre dopo diventano degli zeri quindi circa 380,00 cioè circa 380 teniamoci sempre 382,15 ma questa volta lo approssimiamo alla cifra delle centinaia ci fermiamo al 3 guardiamo la cifra che viene dopo è un 8 8 è maggiore di 5 quindi devo approssimare per eccesso tutte le cifre che vengono dopo il 3 diventano degli zeri ma siccome devo eccedere devo aumentare di 1 la cifra delle centinaia dove mi sono voluta fermare quindi 382,15 è circa 400 ma lo vediamo no? 382 è più vicino a 400 che non a 300 382 è più vicino a 380 che non a 390 e via dicendo ora prova tu approssima questo numero 295,45 48 una volta lo approssimi fermandoti alla cifra dei decimi poi fermandoti alla cifra delle unità alla cifra delle decine alla cifra delle centinaia quello che è importante ricordatevi è guardare la cifra che viene subito dopo se è minore di 5 devo approssimare per difetto cioè mi fermo lì dove ho deciso e tutte le altre cifre diventano 0 se è maggiore o uguale a 5 invece dovrò approssimare per eccesso dovrò eccedere andare un po' oltre e quindi mi fermo alla mia cifra tutte le altre diventano 0 ma la cifra dove mi sono fermata deve aumentare di 1 deve eccedere di 1 ok ci lavoreremo vedrete che vi divertirete tanto riguardatevi la spiegazione tutte le volte che vi serve a presto dalla vostra maestra ciao ciao ciao